Salve a tutti, sono Jacopo Cerri, socio di Successione Ecologica e volevo informarvi che la prossima settimana ci sarà un piccolo tutorial di 20-30 minuti intitolato a un acronimo molto accattivante, SADOMASO, ovvero scienza aperta da ora ma l'ho ancora senza ovvietà. In questo video vi spiegherò, vi darò dei concetti di base su come rendere più aperta e più condivisa la propria attività di ricerca, in particolare si tratteranno i temi delle preregistrazioni, della scrittura e dell'archiviazione e della condivisione dei preprint, dell'archiviazione dei postprint che sono gli articoli pubblicati che è possibile condividere liberamente con tutti purché sformattati e il data sharing, ovvero come si condividono i dati utilizzando degli archivi anche qui aperti a tutti, scegliendo la propria licenza. Quindi è un corso molto semplice, chiunque di voi fa scienze applicate, insomma, magari avrà già sentito parlare di questi concetti, però ancora può non usarli molto perché non sono conosciuti nell'università e nella ricerca, sono ancora poco popolari, per cui spero in questo corso di potervi introdurre e presentare alcuni concetti che in realtà sono fondamentali. Ciao, ci vediamo la prossima settimana. Ciao. 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 Ciao.